ecco un altro personaggio ha toviato il microfono Catti? si hai condizionato quello come me ahahahah ho stai a fare casinche e mi fa male il chiave ahmeme e poi dici che telefonare in macchina è pericoloso beh io in macchina ho sempre telefonato e non mi è mai succeduto nudo di qualche ambito che lei non si può telefonare in macchina e mi è capitato di tutto intonando quattro volte su una da unica e altra scadenza timestrale come i contributi da lì allora io ho un problema, Gruese ma Mari ti fa hai avuto un piccolo infarto ma roba di poco, non è strontanata e sta migliore di me e di voi altri però no, vi è spaventato e vi regalate il salvavita a Beghelli ma l'ha detto che l'ha detto ma è sempre che mi clame ma è una volta che clame di mio frate ma lui può rinforzare le sposate, le frusi, le vede, le fa a me e allora io non mi faccio cosa vedranno allora il tempo anche per chiedere uno sai tu mamme e io mi clame sempre di me è sempre quando sono in macchina ho vogliavore alla peatria, al ramo detersivi allora la prima volta ho detto tu devi metti l'auricolare sul telefono se no ti fasi la multa o metti l'auricolare sul cruscotto tutto pronto lo vuoi avere mi clame i miei mari io conosco questo squillo è un squillo che ha il berle mi sono allora io chiedi sul telefono ben blanco lo metto sui genui ho chiedi sulla cuffietta le meteorelle ho chiedi su che altre cuffiette e mi colla che come hai veduto prima metto su che altre e mi si ingradevi e intanto ci rischi di sgradea sblam per un momento non hai veduto noi non mi stelle se pianeti quando hai avviato voi hai veduto davanti di me una scritta brava ho arrivato intorno di una fiat brava e per fortuna ieri è dure non si è fatta noi io pronto soccorso voto sui cernielli pensai c'è malmetto che io la sanità in Italia far metti mai sui cernielli ma hai anche avanti le patente che roba è vergognosa però ho detto tu tu hai di chiedere il touchscreen perchè hai il tasto viva voce così non ti metti sull'auricolare spinto il peso e ho chiedere il touchscreen poi vengo la volta dopo di nuovo in macchina di nuovo mi sono il telefono ho chiedere il touchscreen io non sei usato no ci arrivi tu hai cazzo l'ha il tasto viva voce tu hai lì che l'intanto davanti alla frenata di box blam e due queste volte ero una cascai le aveva già tannone le tonate anche ma con la P di pote da U tu scusate sto imparando è proprio te con me tu hai cazzo di imparare un'altra volta via pronto soccorso un'altra ria di pons sempre manco pons sulla patente in compenso hai fatto amicizia con chi dai pronto soccorso mi hanno detto che la prossima volta mi regali la tessera raccolta punti sono spiritosi che dai pronto soccorso allora mi hanno detto eh ma tu tu hai sticchioli che la fai lì in florella no no io ho detto no io vai voi disse ma un extraterrestre che ha chiacchere di persone io la prossima volta mi fermi mi fermi in banda per rispondi anche se sei sull'autostrada e così ho fatto una volta dopo sempre a voi sempre in macchina mi suona il telefono mi metto in banda per rispondi così danno una cunetta e io ero io che si era smetteata di chioli la mucchina dal momento che io dicevo la peraula la mucchina di qua mi sono arrivato mi è andata dentro io ero ferma mi è andata dentro un che stava telefonando ma allora ci chiapino a qualcuno oh signor anche ora ho chiamato un mone con un SUV che prima di venire a vedere di me l'ho da vedere di darmi questa macchina e io se l'ho da pronto soccorso mi ha fatto una fiesta e ho sciabolato il prosecco un'accoglienza mi sono commossa proprio eri commossa di accoglienza e di fatto commozione cerebrale e ho però ne ho i pochi stavolta ho un po' di frusta colare mi hanno metto tutti i sfilmi sul colare mi hanno regalato la mauta perché? non cerco guai sono loro che mi trovano i sfilmi sul colare mi hanno nominato schiettina perché eri restata così sulla cunetta come la concordia e così simpatico mi hanno detto ciao torna a trovarci chi hai detto? come ho? come ho? come ho? come ho? come ho? non mi senti le parole a mucchina mi vengono mal di chiare poiché come schiettino io mi sentivo come il coyote tutti sanno me e questa è l'ultima poi ero a Tarcino sul viale alberato che l'è stretta però l'è stretta e davanti di me ero i 5 o 6 ciclisti la sai mi viaggio una parentesi su chi sei che io gli occhiano nell'ottava piaga d'Egitto tu gli occhiati sono come le sfumisse ogni anno e poi e sono lì che ti pedali in paese in città in campagna e ti pedali sotto le plombe dal sorelli dal mese di lui loro sono lì che pedali con i caschi e i due ciccaroulas con la spiccia da un che hanno avuto stretta con la sacchetta che mettono dentro la bottiglia che sembra che vedi la gomma colata e i brogonus stretto con il culo imbottito che sembra che vedi nel pannolone e pedali e pedali anche dal mese di gennaio con il 12 grasso zero allora mettono la montagna e vanno a pedali e mettono la luce sul cerniere e vanno al bosco a pedali ma perciò non fai questo c'è colpa e questo di porca c'è problema se 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 c'è problema ma tu la stai destirata non tu sudi e sicuro si spendi poco come con queste biciclette con il plutonio uranio titanio mi piace e mi piace di euro non stai mai morosa con tutti i cichini morose con la bicicletta per te no a te e neanche pensi per te, ma allora perciò lo faccio, per sei in forma, per sei biai, per avere un bielfisico, ma se hanno il sex appeal di un paracarro, ma perciò, ma lo vedi o mai veduto, un così con un casmonte di bici per la beve un caffè, io sì, guinciato in che maniera? E' tutto rosso, su da, e con i scarputti che fanno tic 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 tic, orribile, inguardabile, se anche tu hai un solo ormone che ti gira quel dì, quel cuore, te vi ho detto così, si suicida, e dopo sono arroganza, non è che stanno in fila indiana, e se andi stanno in gruma aspera, c'è che andi contassi che da l'orso, non è vero, però io capisco che non le pie chiaccherà con tu un culo, d'accordo, però esso neanche gli altri, e di fatto è tercino, ero così, io da ur di loro, vinca loro, e ne fila da ur di me, se vi io sto mandando qualche maledizione, ho messo uno il telefono, e mi metto in banda per rispondere, ho un occhio al ciclista, così un po' con il paraurtino, e diciamo, ma lui ha le po' l'arte, e stanno chiedendo tutti in grumas, tu, 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 ho fatto strike, ho fatto strike, non anche al bowling, non mi arriva mai, non mi... Insomma, ho detto il partiero, si smontate io, e la devi odi, ma stavano già, e vanno su, che sono duri, non si fanno niente, però allora io per stramatizzare ho voluto fare una battuta, no? Gli hai detto, e poi dicono che in Italia non si fanno investimenti, e era bella la battuta. Grazie, guarda, ci sono stessa intelligenza, lo avete capito? no, no, non neanche esiste l'umorismo, ho anche fatto un guano, no, ma mi ha fatto nere, allora io sono là dal pronto soccorso, e gli ho contato tutto il medico, e quando gli ho contato, mi ha dato un guano anche a lui, perché era un ciclista, ma vai qua, mi ha dato un po' a me, ma... grazie... grazie... dov'onate la nostra piccule... grazie... grazie... grazie...